Lotto al terrorismo, solidarietà e amore per il mare mediterraneo, inteso come un grande specchio d'acqua che unisce terre e culture. Sono questi gli obiettivi alla base della 17esima edizione della regata Catargo di Lecta Est 2015, che quest'anno si intitola Liberi di navigare, come simbolo di coraggio e umanità. A bordo della classe 40 Patricia II, il campione della vela Matteo Miceli tenterà un nuovo record navigando in solitario da Fiumicino al porto di Amamet, come piccola risposta ai gravi atti terroristici che hanno sconvolto la Tunisia lo scorso 26 giugno, quando hanno perso la vita 38 turisti britannici sulla spiaggia di Sus. L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino in presenza del campione Miceli, dell'ambasciatore in Italia della Tunisia e degli organizzatori dell'evento. Sì, un'iniziativa particolare, un'iniziativa di solidarietà. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso in un modo diverso e quest'anno naturalmente presentiamo questa edizione, che è un'edizione che però ha una continuità, ha un filo diretto con un pensiero di pace, un pensiero di alleanza, un pensiero di fratellanza, in modo che questo Mediterraneo sia un mare che unisca, non un mare che divide. E quindi l'auspicio proprio questo. Consiste di battere un record da Roma ad Amamet. Ci hanno messo 36 ore, usiamo la stessa identica barca, la Patricia II. Facciamo questa avventura il 31 di luglio. Quindi cerchiamo di battere questo record liberi in mezzo al mare. Una bella slogan e saremo sicuramente al massimo per cercare di battere questo record.